Ascoltate quelle parole, però vorrei l'ultimo sforzo. Come vengono a fare? Voglio vedere come vengono a fare. Andiamo tutti a fare così. Tutti ragazzi, tutti. Ascoltate quelle parole. Allora, allora. Io penso che ragione tu ti sveglia quando non si lotta per il progetto, quando non si non incontra le lezioni, quando non si mette tutto se stesso per raggiungere un sogno. Io penso che ragione tu vuoi quando ci portiamo dall'altra parte, quando non siamo il dito per non intervenire nelle lezioni. Io penso che la gioventù vuoi quando ti ripeti ma forse, sai, sono troppo tardi, ma forse, sai, ma chi ne la va a fare? Io penso che la gioventù c'è già solo quando ti tempi alle impressioni, quando non ti espoli, quando fai la via più forte per far meno fatica. Io sono convinto che la gioventù muoia quando pensi che forse il tiro e il falcone siano solo personaggi di una fiction rai. A puntare. Io credo che la gioventù muore quando non ti accorgi dei dettagli, quando non credi nell'amore, quando parli sempre, parli sempre. No. Non ascolti male. Io credo che la gioventù muore quando non gridi, quando... Credi che Antone non sia peggio. Io penso che la gioventù muore quando ragazzi vieni. Usi la notte solo per morire. Quando hai paura, quando credi che queste siano solo parole. Io credo che la gioventù muore quando decidi. La gioventù muore quando decidi di farti ancora i cazzi tuori. Grazie a tutti e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti. Grazie.